Il bonus facciate è uno degli argomenti più controversi in questi ultimi mesi, a maggior ragione quando escono notizie come il sequestro preventivo di oltre 52 milioni di euro di crediti d'imposta da parte della Guardia di Finanza, frutto di un'articolata frode perpetrata proprio nell'ambito del cosiddetto bonus facciate. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Locri e convalidato da quello di Roma interessa 31 persone che al momento risultano indagate a vario titolo per indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa a danno dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. 37 le società finora coinvolte, tra prime e seconde concessionari del credito, che avrebbero cercato di monetizzare parte dei crediti ricevuti presso sportello di intermediari finanziari dislocati sul territorio nazionale. Il fatto è che alcuni proprietari degli appartamenti di condominio della provincia di Reggio Calabria, interessato dal bonus, non sapevano nulla dei lavori e si sarebbero trovati all'interno dei propri cassetti fiscali la presenza di crediti d'imposta connessi a degevolazioni finanziate ad interventi di recupero edilizio, da loro mai richiesti né tanto meno realizzati. Così si sono rivolti alla Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che le quattro imprese prime concessionarie, tutte amministrate dallo stesso soggetto attualmente indagato, risultavano avere accettato cessioni di crediti inesistenti per un ammontare di 52 milioni e 26 mila 930 euro, da parte di 160 cedenti ignari. Le quattro società prima concessione hanno provveduto a monetizzare parte di questo credito, cedendo alla restante parte ad altre 33 società seconde concessionarie, con sedi risedenti su tutto il territorio nazionale, che hanno proceduto a loro volta a monetizzare parte dei crediti.